avete notato vero ci manca armadio e piano 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 la stanza sta prendendo forma l'armadio naturalmente ho sceso e smontato tutto quanto io sono ancora intero quindi vuol dire che va tutto bene sono ancora vivo siamo sempre qui naturalmente sulla mia serie dove in base alle vostre domande vi racconto parte della mia vita e oggi risponderò a una domanda molto curiosa nel senso che per me è curiosa e strana perché non avrei mai considerato di mai considerato di rispondere a una domanda del genere però visto che me l'avete fatto naturalmente spesso tra l'altro poi vi ricordo sempre che io metto in lista tutta una serie di domande poi piano piano li recupero non è che mi rispondete su tutti i commenti il video poi prossimo vi rispondo subito un po di pazienza è normale perché poi le domande sono tante e discorsi poi sono tanti altrimenti poi dovrei fare un video rispondendo tutte le domande ed è brutto andiamo avanti e rispondo alla domanda di andrea tironi che con l'approvazione di andrea galiazzo cavolo vi chiamare tutte le come me non lo so dice ciao magmo bellissimo video comunque nel prossimo video potresti parlare il tuo rapporto con i tuoi genitori mentre invece andrea galiazzo dice sì ci può stare un altro andrea risponde nel senso se lo trattano male o bene praticamente in questo momento siamo quattro andrea se andrea si chiama andrea vabbè passiamo presto sì vi racconteremo naturalmente del mio rapporto con i miei genitori ma più che altro ho intenzione naturalmente di parlarvi anche di un rapporto di un mio amico perché perché fa parte naturalmente anche della mia vita in che senso ho avuto la fortuna di avere di di avere sono ancora vivi naturalmente due genitori madre e padre naturalmente che mi hanno trattato benissimo ottimo rapporto tra di loro discutevano però non si sono mai lasciati hanno sempre le decisioni più importanti sempre insieme nel bene nel male sono sempre stati insieme con questo naturalmente non voglio dire che io sono stato trattato benissimo nel senso che erano severi cioè non è che avevo console a videogame tutto quello che volevo avevo no assolutamente anzi proprio da quel punto di vista non avevo niente tenete presente che console pc giochi soprattutto li comprava veramente tutti quanti gli io per mio padre al massimo si poteva comprare motorino era troppo piccolo quindi non era assolutamente il caso mentre invece ecco forse più mia madre mi appoggiava su questo con il ego a mia madre piacevano tanto di con non farle naturalmente ma mi piaceva che io mi cimentasse a costruire queste cose per cui era contenta di comprarmi il ego e quanti me ne comprava tra l'altro poi io avevo la fortuna di avere con lei una sorta tipo di ricatto se vedete un po che mi ha giusto i capelli perché fa un caldo e voi non potete neanche immaginare non c'è neanche il condizionatore quindi sto morendo avevo la fortuna che in pratica era c'era tipo una sorta tipo di ricatto cioè nel senso quando doveva uscire con lei non avevo voglia di uscire con lei di portarmi perché doveva andare a fare tipo della spesa a comprare vestiti io non volevo uscire con lei e lei naturalmente mi diceva se esci come ti compro un lego e quindi era una sorta naturalmente di legame di ricatto tra virgolette che costringeva naturalmente a poter uscire e ne comprava naturalmente tantissimi non potete immaginare quanti ligo avevo naturalmente tutti questi lego sono stati diciamo sezionati e distrutti perché una volta costruiti io li esponevo ma in un certo senso poi facevano polvere e quindi è normale che magari un genitore tende a metterli da parte poi questo da parte significa metterli in una busta poi questa busta scompariva e quindi potete immaginare dove sono finiti questi lego il rapporto dei miei genitori era abbastanza buono abbastanza d'accordo erano abbastanza severi su alcuni punti del tipo come mangiare a tavola o del tipo come andare a scuola quando nel senso di andare bene a scuola io avevo naturalmente la fortuna di come già vi ho detto in precedenza di non essere un talento ma non essere neanche una schiappa mentre invece magari per esempio nella sorella aveva un po più di problemi da quel punto di vista e loro erano molto ma molto più severi sto morendo di caldo porca miseria sono tutto sudato mentre invece io forse ero ancora troppo piccolo quindi certe cose non le capivo io la mia infanzia sono cresciuto o meglio cresceva con me un mio compagno un mio compagno che era un po strano nel senso che in classe tendeva a picchiare chiunque bambini maestre non risparmiava nessuno con me invece no non ho mai capito per quale motivo ma tendeva naturalmente a non mi ha picchiato e quindi era il motivo per cui giocavamo sempre insieme e addirittura era il motivo per cui veniva a giocare sempre a casa mia io all'epoca ero piccolo e quindi certe cose non le capivo e non mi si venivano neanche poi dette era l'unico l'unica famiglia l'unica casa in cui poteva venire a giocare io non capivo per quale motivo lui non riusciva a stare con nessuno menava tutti tutti praticamente uomini dopo e bambini bambine professoressa maestra maestra maestro bidello no perché era abbastanza abbastanza grosso però reagiva con tutti invece con me no eppure io non è che chissà che cosa gli avevo fatto cioè eravamo cresciuti insieme giocavamo insieme e basta non era mai successo niente poi con l'età sono naturalmente venuto a conoscenza di tante cose perché poi mia madre mi ha raccontato tante cose sapevo che ho saputo naturalmente poi successivamente che i genitori non andavano molto d'accordo e da quello che poi ho saputo diciamo che non andavano per niente d'accordo ma anche dal punto di vista si menavano pure tra di loro e quindi evidentemente forse il ragazzo il mio compagno di classe vedendo naturalmente i genitori reagiva pure lui allo stesso modo personalmente non so per quale motivo io non gli suscitavo questa questa rabbia forse magari ero abbastanza tranquillo per cui lui vedendo in me la tranquillità era pure lui tranquillo non so per esempio se vi è mai capito una situazione del genere perché per me è sempre stata una cosa molto 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 strana perché generalmente si dice che vabbè quello non ti mena perché ha paura di te o magari non ti mena perché boh per un motivo ma vi posso giocare una maniera più assoluta che non c'è mai stato niente siamo sempre andati d'accordo punto e basta giocavamo insieme giocavamo insieme a macchinette all'epoca ci avevo no lui ci aveva se non mi sbaglio una console pare tipo il mega drive una roba del genere non mi ricordo che console aveva e o a calcio però non è mai successo niente non so per quale motivo eppure i genitori io li ho conosciuti sembravano persone normale però poi dopo successivamente ho saputo che erano molto bravi a fingere ed era motivo per cui poi dopo si sono lasciati si sono ripresi sono rilasciati si sono ripresi infatti per esempio sapevo che il fratello più grande di questo mio compagno di classe aveva molti problemi non so da che tipo di medico andava ma comunque aveva molti problemi a livello psicologico oltre naturalmente andare malissimo a scuola lui invece non andava male scuola andava bene a scuola però aveva questa condotta che praticamente lo distruggeva del motivo per cui ha perso mi pare anche tipo due anni una roba del genere poi ad un certo punto ci siamo persi di vista perché frequentando scuole completamente diverse non l'ho più visto c'è stato un periodo in cui stava nel mio stesso quartiere quindi qualche volta ci vedevamo però poi dopo da grandi non ci siamo più visti ci siamo rincontrati a distanza di qualche anno tipo 45 anni fa e lui mi ha detto che ha avuto una bambina ed era già divorziato quindi vuol dire che evidentemente il peso dei genitori lo deve aver trasmesso poi naturalmente cioè gli ha trasmesso questo questo odio in rapporto familiare eppure lui si ricordava ancora che infatti mi ricordo perché lo incontrai con mia moglie lui mi disse che era l'unico amico in cui andava a giocare perché le altre persone non lo volevano a casa in un certo senso avevano anche ragione perché era abbastanza violento mentre invece a casa mia veniva ben volentieri perché mia madre lo voleva e non c'erano naturalmente problemi scrivete sotto nei commenti voi che cosa ne pensate perché personalmente è qualcosa di molto strano dal mio punto di vista non vi ho voluto parlare bene del rapporto o meglio dell'apporto dei miei genitori perché fondamentalmente i miei genitori avevano un buon rapporto litigavano spesso ma più che litigare discutere spesso però fondamentalmente si volevano bene e c'era una forte stima però se mi avete fatto questa domanda perché evidentemente siete curiosi di questa cosa scrivetemi sotto nei commenti per quale motivo mi avete fatto questa domanda perché secondo me da questo video forse potrebbe nascere anche un ulteriore video perché forse io ho capito la domanda ma forse dalla domanda ne può uscire o qualche altra cosa attraverso naturalmente i vostri commenti ci vediamo sul prossimo video Bye!